Grazie per questa audizione a nome dell'Associazione Un Ponte Per, che come forse saprete è attiva nella solidarietà con la popolazione irachena fin dal 1991, ma poi abbiamo allargato la nostra azione ad altri paesi del Medio Oriente e del Mediterraneo. E quindi volevamo, innanzitutto, essendo un'organizzazione che è nata anche per contestare la logica e l'utilizzo della guerra come mezzo di risoluzione delle controverse internazionali, sottolineare che ci sentiamo sempre a disagio nel vedere l'approvazione periodica di un decreto missioni che include interventi di segno diametralmente opposto. Quindi a fronte di questi circa 300 milioni di euro destinati alle missioni militari vediamo anche questa volta solo 38,5 milioni di euro destinati alla cooperazione e allo sviluppo e questa situazione a nostro avviso è insostenibile nel momento in cui, ad esempio, per guardare all'emergenza umanitaria che è a noi più vicina, i fondi delle Nazioni Unite, dell'Agenzia ONU per i Rifugiati per far fronte alla crisi dei rifugiati siriani e alla crisi irachena sono sottofinanziati a meno del 50%. Quindi questo sbilanciamento nella destinazione di fondi per missioni militari e per cooperazione in questa crisi ci sembra veramente negativa. Abbiamo preparato un report che approfondisce proprio la questione della crisi dei rifugiati siriani out of the borders che avete davanti a voi. Se lo aprite a pagina 3, la prima mappa vi rappresenta un po' la... vi dà un'idea della drammaticità della situazione, dei numeri della crisi dei rifugiati siriani. In questo momento dentro la Siria ci sono 7 milioni e 600 mila rifugiati interni ma sono 12 milioni le persone che hanno bisogno di urgenti aiuti umanitari e come sapete sono più di 4 milioni rifugiati nei paesi circostanti. Di fronte a questi numeri il mezzo milione di siriani che negli ultimi anni, diciamo dall'inizio della crisi, ha chiesto asilo politico in Europa è ben poca cosa. È grave la situazione anche in Iraq dove i numeri sono meno chiari ma sono probabilmente 5 milioni gli sfollati interni causati dalla crisi dopo l'arrivo di Daesh ma anche dalla successiva risposta militare del governo iracheno e della comunità internazionale che spesso ha aggravato l'esodo delle popolazioni dalle zone colpite dal conflitto. Per dire due parola sulla Siria e per farvi capire quanto si può fare anche con mezzi civili in queste situazioni io vorrei ricordarvi che un Ponte Peri in questo momento sta consegnando aiuti umanitarie e medicine nella zona del Rojava, il Kurdistan siriano dove è nato un interessantissimo esperimento democratico di confederalismo democratico, l'hanno voluto chiamare, che si pone come esperimento anche di convivenza tra etnie e minoranze in questa Siria dilaneata dal conflitto. Ecco che allora le stesse istituzioni italiane, il Ministero degli Esteri hanno voluto consegnare tramite un Ponte Peri in questo momento medicine per consentire a questa esperienza di sopravvivere, per dare forza alle persone che stanno non solo resistendo a Daesh ma stanno cercando di creare un modello democratico in cui c'è posto ad esempio per la partecipazione politica delle donne nella costruzione di un nuovo Paese. In questo caso le medicine hanno un valore simbolico anche di riconoscimento da parte delle istituzioni italiane di questa esperienza e questo è solo un esempio di quanto di importante si può fare in questo momento anche tramite la cooperazione con associazioni come la nostra. E poi passiamo all'Iraq perché questo decreto missioni sancisce che la risposta in questo momento delle istituzioni italiane alla crisi di Daesh in Iraq continua a essere militare. Innanzitutto volevo rimarcare che l'alleato che è stato scelto dal governo italiano è il governo del Kurdistan iracheno. Come voi saprete il Kurdistan iracheno è stato dilaniato da una sanguinosa guerra civile tra il 94 e il 98, una guerra che è stata chiusa, la pace è stata negoziata su pressione degli Stati Uniti nel 98, ma i due partiti principali al potere PDK e UPK hanno mantenuto proprie milizie e anche proprie carceri. E questa situazione di conflitto fa sì che non ci siano i pesmerga del Kurdistan iracheno, ci sono i pesmerga del PDK, ci sono i pesmerga dell'UPK. E quest'estate si è arrivati allo scoppio di una crisi tra varie fazioni politiche, per cui c'è stato quello che molti non esistono a definire un colpo di Stato da parte del Presidente Barzani. E in questa situazione ovviamente inviare armamenti e continuare nella cooperazione militare con una fazione non fa che esacerbare il conflitto, per cui noi in questo momento siamo semplicemente qui a portarvi la voce dei nostri partner iracheni e kurdi che chiedono di premere perché venga ripristinato una situazione di democraticità, quindi riabilitate le istituzioni democratiche che venga consentito al Parlamento di riunirsi di nuovo con il suo Presidente del Parlamento e che si interrompa qualsiasi tipo di invia di armi e di collaborazione militare finché questa situazione di democraticità non verrà ristabilita. A il pesmerga ovviamente si può fare formazione, ma anche sul rispetto dei diritti umani e delle convenzioni di Ginevra, si può aiutare la polizia che si occuperà anche poi di un eventuale ritorno nelle zone attualmente occupate da Daesh, perché noi lavoriamo in questo momento per immaginare la possibilità di un ritorno degli sfollati interni, formare questa polizia perché non sia una polizia militarizzata, ma sia una polizia ad esempio di prossimità con le tecniche del community policing, di cui a livello internazionale si parla, una polizia che consenta alle comunità di immaginare un futuro di convivenza. E su questo sono innumerevoli le azioni di peace building che si possono portare avanti in Iraq. Quindi Daesh non può essere sconfitto militarmente. Daesh verrà sconfitto quando alcune fazioni politiche tribali delle componenti sunnite irachene interromperanno le loro alleanze con Daesh. In questo momento un ponte persa portando avanti ad esempio, oltre ovviamente al lavoro umanitario con gli sfollati e i profughi, un progetto di peace building finanziato da UNDP che ci sta facendo interloquire con il consiglio provinciale del governatorato di Niniwa, quello di Mosul, che in questo momento il governatorato, diciamo, il consiglio è in esilio a Dohuk. Quindi noi lavoriamo a Dohuk con questo consiglio provinciale e con i partner di società civile per prospettare delle azioni, delle politiche da mettere in atto per preparare il ritorno. Ed è questa preparazione del ritorno che lo renderà possibile. Anche semplicemente per farvi capire di cosa parliamo, le tecniche di giustizia riparativa che cercano di immaginare, ad esempio nel caso di ritorno delle minoranze presso le comunità sunnite, dove prima vivevano, una giustizia che non lavori sulla punizione dei colpevoli all'interno di queste comunità sunnite per le violazioni dei diritti delle minoranze. Quindi che non lavori sulla punizione dei colpevoli, ma sulla riparazione dei torti subiti. Questo lavoro di riparazione dei torti subiti dalle minoranze deve coinvolgere il colpevole, quindi eventualmente anche i membri della comunità sunnite ospitante e le minoranze colpite e tutta la comunità circostante. Queste metodologie di lavoro, di peace building, necessitano di formazione, necessitano di sostegno, di riconoscimento politico. E quindi è su questo tipo di impronta che noi vorremmo vedere un impegno delle istituzioni italiane. Vado a toccare velocemente altri punti anche che riguardano il decreto missioni. Noi volevamo sottolineare come per quanto riguarda un altro paese dell'area la situazione nei territori palestinesi occupati sapete è gravissima. Di fronte a questa situazione semplicemente replicare il sostegno a missioni come Eubam di Rafa e TIF di Hebron è assolutamente insufficiente. I palestinesi, appunto chi li conosce di Hebron lo sa, vedono i militari della missione TIF documentare le violazioni, ma questa documentazione poi non produce mai una sanzione delle violazioni. Finisce nei cassetti, appunto, delle autorità israeliane o italiane. Ecco, in questo contesto la società civile invia corpi civili di pace a fare non solo un monitoraggio delle violazioni dei diritti umani, ma disincentivare con la loro presenza fisica le violazioni dei diritti umani dei palestinesi, in questo caso disarmati, ovviamente civili, da parte di coloni estremisti o di militari israeliani che abusino del proprio mandato. E noi ricordiamo anche che sarebbe giusto a questo punto, sarebbe legittimo dopo tanti anni, anche dare riconoscimento a una campagna di società civile che è quella di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni su Israele come campagna non violenta, anche qui, per chiedere semplicemente il rispetto da parte di Israele delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni delle Nazioni Unite e solo finché non verranno rispettate le risoluzioni delle Nazioni Unite. Vorremmo poi toccare il punto di un'altra operazione navale e militare che viene finanziata con questo decreto missioni, che è l'operazione dell'Unione Europea, è un'Av4Med, che volta a smaltellare le reti del traffico e della tratta degli esseri umani nel Mediterraneo centro-meridionale. Ecco, questa missione, diciamo, nel mandato riporta parole come fermi, ispezioni, sequestri, dirottamenti, eliminazione di imbarcazioni dei trafficanti. Non è una missione che punti all'accoglienza, che punti al salvataggio delle popolazioni. Ecco, di fronte a questi numeri, di fronte a una Turchia che in questo momento ha due milioni di rifugiati siriani nel suo territorio, che utilizza come una bomba per ottenere, diciamo, la benevolenza dell'Unione Europea di fronte anche lì a declatanti violazioni dei diritti umani della popolazione kurda, chiusura dei media di opposizione, ora durante le elezioni. Ecco, di fronte a questa situazione come possiamo pensare di fermare le imbarcazioni dei trafficanti con un'operazione di questo tipo che diventa, rischia di diventare ovviamente, per le tre fasi in cui è stata strutturata, un'operazione di guerra? E come possiamo pensare di eliminare dei canotti che vengono gonfiati da una notte all'altra tramite bombardamenti? I profughi non arrivano con grandi vascelli che possono essere individuati nei porti e bombardati. Per cui, ecco, è un'operazione non solo velleitaria, ma dannosa, secondo noi. E chiudo ricordando che c'è un capitolo di cui poco si parla, che fa riferimento alla legge 180 del 92, sulla partecipazione italiana all'iniziativa di pace ed umanitaria in sede internazionale, che non viene utilizzato per iniziative di pace della società civile. Noi crediamo che questo possa essere un capitolo appunto atto a sostenere iniziative di peace building. Vi ricordo quindi per chiudere che tutte le reti italiane che si occupano di servizio civile, di peace building, di disarmo, hanno proposto con la campagna Un'altra difesa è possibile, l'istituzione di un Dipartimento dello Stato che si occupi di difesa civile non armata e non violenta, un istituto nazionale di studi sulla pace e sul disarmo i corpi civili di pace. Queste sarebbero, secondo noi, le nuove istituzioni da finanziare con questa legge e chissà un giorno anche con un nuovo decreto missioni civili. Grazie. Prima di dare la parola ai colleghi che vogliono fare delle domande, voglio anche esplicitare il senso di queste attuizioni. Nel senso cioè che come Presidenza abbiamo ritenuto di raccogliere delle richieste dell'opposizione che volevano delle audizioni esterne in modo tale che il nostro dibattito sia, diciamo così, per un verso il più approfondito possibile consentendo quindi anche voci esterne che raccolgono, approfondiscono alcuni aspetti della tematica dell'opposizione. E dall'altro lato per far sì che noi abbiamo dei lavori che vanno al centro delle questioni e quindi con una gestione anche degli emendamenti e così via in modo tale che facciamo una discussione reale e concentrata nel tempo ma concentrata anche nella qualità della discussione per cui tutte, diciamo così, le voci e le alternative vengono messe in campo e del resto abbiamo sentito nelle due relazioni che abbiamo sentito delle posizioni totalmente radicali in contestazione con quello che noi stiamo discutendo e approvando. Ma questo secondo me rientra in una logica parlamentare di correttezza del confronto e nello stesso tempo di concentrazione di esso in modo tale che lo sviluppiamo nei termini dell'approfondimento reale. Ciò a Tini come primo iscritto. Grazie Presidente. Io ho veramente brevi domande. vi ringrazio entrambi per i vostri interventi entrambe per i vostri interventi vorrei fare delle domande abbastanza anche magari sconvenienti sia sulla parte dell'Afghanistan sia sulla parte di tutte le missioni giusto perché sia corretto io ritengo che avere dubbi è la parte più importante sia da un lato che dall'altro sulla parte afghana io guardando le slide in particolare dal 2014 al 2015 si nota un incremento impressionante di casi che vengono accettati dalle vostre strutture ovvero al termine dell'AISAF con l'introduzione della Resolute Support c'è questo robusto e massiccio incremento di feriti la domanda mi faccio io è una domanda veramente sincera nel senso che io ho una visione di una missione fatta in Afghanistan che è stata un fallimento totale certi numeri lo giustificano ma non mi posso non permettere di chiedere a lei cosa succede qualora questa presenza non ci fosse e quale potrebbe essere un suggerimento rispetto alle missioni da compiere mi spiego la Resolute Support è stata decantata come una semplice missione di addestramento in una discesa verso un mondo felice ieri il Ministro Pinotti ci ha informato che i morti nei militari sono in un incremento massiccio e i feriti e sicuramente anche le persone quindi mi domando ha senso e come continuare se non ha senso per l'Italia continuare una spiegazione logica la voglio avere anche da parte sua relativamente invece alla parte sull'Iraq mi domando le organizzazioni che sono presenti attualmente hanno o non hanno necessità di una force protection cioè mi spiego che qualcuno che faccia quel tipo di lavoro perché è corretto considerare una visione per cui Daesh non lo combatti esclusivamente militarmente ma in questa fase soprattutto rispetto a quelli che sono stati gli ultimi passaggi dal 2013 Daesh ha una preeminenza militare non indifferente un unico appunto e questo voglio una sua valutazione sull'ultima missione che ha detto su Unav4Med è vero gli obiettivi della missione sono mirati a un contrasto nessuno penso abbia mai parlato di bombardare un gommone penso che questa sia una cosa abbastanza fuori dagli schemi ma la domanda mi faccio io di nuovo è quelle navi sottostanno alle convenzioni del mare e quelle navi al momento hanno salvato sono quelle che hanno salvato tutti i migranti che sono arrivati italiane e non chiedo anche un suggerimento su come potrebbe essere trattata quella situazione posto che ultimamente dalla Turchia è più facile utilizzare il canale terrestre che quello navale grazie grazie sarò veramente molto rapido intanto condivido il commento del presidente Cicchitto sull'utilità di queste di queste audizioni insomma entrambe molto utili due brevi domande la prima alla dottoressa strada in parte è stata anticipata dal collega che ha parlato un attimo fa nel senso che io ringrazio la dottoressa strada scusi se le do le spalle ma per ragioni diciamo di amplificazione ringrazio la dottoressa strada per questo quadro molto preciso inquietante certamente sul lavoro che state facendo nello specifico e tuttavia una domanda inevitabilmente banale rispetto al titolo della sua presentazione che cosa è andato storto capisco che l'oggetto della sua della sua audizione del suo incontro è piuttosto sul suo lavoro che non su quello che però che sta fuori dalle sue finestre come lei ha detto però un suggerimento effettivamente glielo chiederei cioè che cos'è secondo lei che è andato storto nello specifico dalla sua finestra dal suo punto di osservazione soprattutto come diceva il collega Arditti che ha parlato un attimo fa quali potrebbero essere suggerimenti operativi che lei si sentirebbe di dare appunto a un legislatore che come noi in questo momento si appresta a discutere del nuovo decreto missioni l'altra domanda più specifica alla dottoressa Pignatti è quando ha fatto riferimento parlando di Israele e Palestina alla mobilitazione di associazioni della società civile che si battono per il boicottaggio dei prodotti israeliani vorrei chiederle di essere leggermente più specifica cioè a quale società civile si riferisce a quale associazioni si riferisce e anche a quale tipo di boicottaggio si riferisce grazie grazie l'onorevole Basilio grazie presidente io ringrazio sia la dottoressa Pignatti che Cecilia Strada per secondo me a mio avviso finalmente un concreto reale spaccato in commissione difesa e in commissione affari esteri dopo due anni e mezzo di decreti missione io avrei anche il piacere che queste slide queste testimonianze fossero inviate anche ai due ministri perché insomma i dati che ci vengono di solito portati ad ogni decreto missione sono un pochino divergenti e anche lo spaccato che ci viene portato durante tutte le aduzioni dei decreti missioni sono notevolmente differenti da quelli che abbiamo potuto ascoltare quest'oggi ma direi che anche se ci si reca semplicemente in questo periodo storico in Libano o solo a Derat nella nostra missione internazionale si riesce comunque ad avere più o meno la stessa visione che ci è stata portata questa mattina da queste due operatrici di pace io ho due velocissime domande a parte i dati sconcertanti dei morti e dei feriti che si evincono dalle slide portate da Emergency Cecilia Strada parlava di poligoni abbandonati io credo che intendesse per poligoni nato dei duco i numeri dei feriti e dei morti anche a livello militare sono notevolmente aumentati questo ce lo diceva anche ieri in audizione la Ministra Pinotti io penso che a questo punto e lo chiedo anche ovviamente alla Dottoressa Cecilia Strada se non sia il caso che dalla missione combat alla missione no combat quindi alla Resolute Support non si inizi a ripulire tutto il disastro che è stato creato ovviamente dalle varie forze armate che hanno operato in questi lunghi anni di guerra e di occupazione perché a tutti gli effetti una guerra e un'occupazione soprattutto quando si ascoltano le parole di un ministro dirci in in audizione che continuano a morire le forze militari afghane noi continuiamo a rimanere là per formare altre forze militari come se le forze militari fossero quasi dei robot muoiono e noi li riformiamo quindi praticamente siamo diventati dei colonizzatori di una parte dell'Afghanistan questo è ovvio quindi la mia domanda è se pensa che le morti e i feriti possono ridursi se si iniziassero a ripulire quelle mine e tutti quegli ordini inesplosi che proprio causano questi questi ordini fatti in casa fatti a mano che poi vanno a creare questi feriti e questi morti orribili invece io avevo poi una considerazione una domanda alla dottoressa Pignatti in merito alla situazione libanese noi siamo appena rientrati da una missione in Libano a settembre abbiamo potuto consultarci con vabbè vari sindaci vari prefetti vari politici libanesi e anche con il nostro ministro degli esteri neo insediato il Libano oggettivamente ha una situazione veramente critica purtroppo la guerra siriana ci è stato detto che è già entrata nella parte nord del Libano e dato che voi avete un ufficio e uffici comunque a Beirut in Libano chiedevamo se non fosse il caso sollecitare il ministero degli esteri a fare entrare i corpi civili di pace per creare un intervento un pochino meno forte dato che gli interventi forti già da parte delle emizie libanesi ce ne sono parecchi e invece abbiamo una meravigliosa missione che è quella di Unifil nel sud quindi magari iniziare a cercare di pacificare di dare una manforte al Libano che comunque è stata chiesta ma ovviamente non possiamo andare a fare un intervento armato quindi io chiedevo se non era il caso magari di sollecitare il ministero degli esteri per entrare nei corpi civili di pace in Libano a dare una mano grazie grazie l'ultimo intervento che ora è l'onorevole di adesso sì anche io vorrei ringraziare entrambe che abbiamo sentito stamattina anche perché ci rappresentano un quadro affatto simile diciamo a quello che c'è stato descritto ieri dai ministri degli esteri e in particolare dal ministro della difesa credo per errore ieri il ministro della difesa correggendo le cifre della scolarizzazione nella provincia di Erat ci ha riferito di 900 mila studenti iscritti nelle scuole nelle scuole della provincia di una provincia che ha a noi risulta 430 mila abitanti quindi diciamo una scolarizzazione veramente di massa oltre ogni rose ha più rose aspettativa nostra ecco rispetto ai successi di quella di quella missione il quadro descritto ci sembra assolutamente diverso è una missione di 13 anni in grosso modo parlo di quella ovviamente in Afghanistan che produce questi brillanti risultati in termini di stabilizzazione di democratizzazione di sviluppo dei fattori civili ci induce a pensare che forse sarebbe giunto il tempo di una riflessione più approfondita l'abbiamo detto questo anche ieri e probabilmente anche di una svolta nella politica internazionale del nostro paese e anche diciamo del contesto internazionale nel quale noi ci muoviamo anche la mia vuole essere una domanda che può avere del provocatorio perché è ovvio che questo parlo dell'Afghanistan parto dall'Afghanistan e arrivo anche in altri contesti compreso quello diciamo del conflitto israelo-palestinese se così lo si può effettivamente definire o dell'occupazione israeliana dell'incedere dell'occupazione israeliana in terra di Palestina ovvero quali strumenti si possono attivare secondo voi a protezione di un processo che effettivamente sia di sviluppo dei fattori di pace quindi della società civile che non sia un processo militare perché anche dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse possiamo segnalare questo che se una missione grossomodo è costata quella dell'Afghanistan 5 miliardi in 13 anni l'impiego delle risorse per la cooperazione civile è limitata a 800 milioni che detta così sembra una grossa cifra che però sono 800 milioni a fronte di 5 miliardi in 13 anni quindi quali strumenti a protezione diciamo dei fattori della società civile e quanto potrebbe essere eventualmente utile provare a sviluppare una strategia che porti attorno a un tavolo i nemici che si combattono perché io come l'impressione che parlo ancora dell'Afghanistan che in una condizione di permanente conflitto si creino le condizioni più che per lo sviluppo della società civile e per lo sviluppo per l'infiltrazione di Daesh così come ci viene riferito anche da la dottoressa Strada ma anche ieri dai ministri degli esteri e della difesa e insomma se a vostro giudizio il coinvolgimento dei talebani su un tavolo di pace potrebbe essere una strada perseguibile oppure una chimera o diciamo l'elucubrazione mentale di un sognatore iniziamo dal punto se serve force protection per lavorare per operare nel Kurdistan iracheno in Iraq per portare aiuti umanitari la risposta è no perché per portare aiuti umanitari dove possono operare gli internazionali operano quindi appunto gli sfollati alla fine si rifugiano in aree sicure per cui diciamo nelle zone in cui sono presenti gli sfollati queste zone garantiscono relativa sicurezza anche gli operatori internazionali dove non arrivano gli espatriati italiani o occidentali ci sono gli operatori umanitari iracheni che stanno facendo un fantastico lavoro in tutto il resto dell'Iraq praticamente senza sostegno della comunità internazionale e quindi raccogliendo donazioni di privati iracheni anche una splendida rete ad esempio di giovani volontari iracheni Gauss sta raggiungendo le montagne del Sinjar sulle montagne del Sinjar ci sono ancora sfollati gli asidi che stanno facendo la fame e quindi diciamo a queste aree gli operatori umanitari iracheni arrivano magari con con gli aerei dell'esercito iracheno ma non è appunto la scorta militare che consente di portare aiuti umanitari in questo momento servirebbero sì delle operazioni militari ad esempio per andare a liberare le donne iaside che sono ancora schiave nelle mani di Daesh non se ne parla più ma quella situazione scabrosa di cui appunto tutti parlavano fino a insomma un po' di mesi fa non si è risolta per cui ad esempio se le truppe statunitensi fanno i blitz per liberare Peshmerga i blitz non li hanno fatti per liberare le donne yaside schiave di Daesh quindi diciamo che operazioni militari mirate possono sicuramente avere un carattere umanitario in questo senso poi per quanto riguarda la strategia militare per combattere Daesh quella appunto non sta a noi ONG raccomandarla e suggerirla però tutti sappiamo che la dottrina diciamo della risposta aerea tramite bombardamenti aerei è fallimentare quindi appunto detto bene Cecilia Strada l'Afghanistan lo dimostra e ormai purtroppo lo dimostra anche la Siria quindi non è con i bombardamenti aerei che si sconfiggerà Daesh Per quanto riguarda EUN of 4 quali sono le navi che salvano i migranti anche qui non sono le navi militari ma non per un pregiudizio ideologico perché le navi militari non sono fatte per salvare i migranti diciamo che tramite anche i nostri scambi con operatori umanitari di MSF che hanno una loro nave atta proprio a salvare i migranti il modo in cui sono costruite l'imbarcazione è diverso quindi ovviamente si può fare salvataggio anche con le operazioni militari con le navi militari e i salvataggi sono stati fatti però EUN of 4 non è disegnata come operazione per il salvataggio e quello che noi vorremmo vedere è un Mediterraneo pieno di imbarcazioni della protezione civile italiana a salvare i migranti e vi ricordo che è vero che dalla Turchia che dalla Turchia le rotte diciamo più facile più sicure da seguire sono quelle terrestri ma sono quelle che costano di più per cui noi stessi lavorando costano di più perché i trafficanti le fanno pagare praticamente il doppio rispetto al passaggio via mare noi stessi diciamo per raccontarvi una storia così a presa diretta di un ponte per che lavoriamo con i campi di sfollati in Iraq da cui tutti cercano di scappare quindi il sogno di tutti è scappare verso l'Europa in questo momento di quei 5 milioni di iracheni abbiamo perso un'amica un'operatrice umanitaria una donna irachena sfollata che prestava anche aiuti umanitari che aveva la mia età che aveva un bambino in grembo è partita col marito e due bambini piccoli hanno dovuto scegliere la rotta del mare perché non avevano abbastanza soldi per pagare il passaggio di tutti via terra e lei con il suo bambino in grembo e con la bambina più piccola di due anni non ce l'ha fatta quindi è annegata ce l'hanno fatta il marito e l'altro bambino quindi questa purtroppo è la triste realtà che noi vediamo ogni giorno di cui ovviamente approfittano i trafficanti perché non c'è una via legale per portare queste persone che hanno urgente bisogno di aiuto di asilo umanitario in Europa e quindi anche qui noi richiediamo che venga escogitata una proposta per l'apertura di corridoi umanitari che consentano a queste persone di arrivare legalmente da noi per quanto riguarda il Libano molto importante quello che ci veniva chiesto il Libano è un paese in cui la missione Unifil è accettata dalla popolazione ben voluta dalla popolazione e in cui quindi si potrebbe aggiungere un altro livello italiano di impegno civile per il peace building quindi assolutamente noi in questo momento stiamo programmando stiamo progettando degli interventi di corpi civili di pace in Libano per favorire il dialogo la coesistenza tra le comunità libanesi ad esempio e le comunità di rifugiati siriani per gli stessi numeri che trovate in questa in questa mappa voi potete dedurre che in questo momento un quinto della popolazione libanese è costituito da rifugiati siriani ovviamente questo ha causato una serie di conflitti che vanno appunto dal conflitto proprio interculturale interetnico a quello per il fatto che gli enti locali libanesi non riescono più a raccogliere e smaltire l'immondizia per cui ci sono stati giovani rifugiati siriani catturati da ragazzi libanesi e legati in mezzo a una strada ai pali esposti al pubblico ludibrio e ecco diciamo fin dai ragazzi questo conflitto sta crescendo e veramente rischia di esplodere per cui la nostra proposta è corpi civili di pace in questo contesto che potrebbero essere tra l'altro immediatamente sostenuti tramite la sperimentazione che verrà avviata presto in seno al servizio civile italiano finanziata già con la finanziaria di fine 2013 ma non ancora implementata per lentezze e carenze dell'apparato burocratico e anche del governo italiano che evidentemente non l'ha ritenuta come una priorità noi temiamo che vista la situazione di conflitto in Medio Oriente temiamo che il ministero degli esteri voglia escludere paesi come Israele, Palestina e Libano da questa sperimentazione ma è proprio un Libano che molti di noi come un Ponte Pere come Operazione Colomba potrebbero costruire esperimenti pilota molto interessanti di caschi bianchi di corpi civili di pace per cui anche qui è molto importante che ci sia un'iniziativa di pressione perché venga data accessibilità al Libano per quanto riguarda la sperimentazione di corpi civili di pace che sta per partire con un bando sperimentale di servizio civile italiano e poi passiamo per chiudere a Israele e Palestina dunque quali strumenti per un processo di pace in Israele e Palestina da molti anni ormai l'associazionismo e anche le forze politiche palestinesi stanno portando avanti una lotta non violenta di protesta contro il muro dell'apartheid quella che invece Israele chiama barriera di separazione tra Israele e Palestina che però per l'85% è costruita non sul confine della linea verde ma sul territorio palestinesi quindi diciamo è uno strumento dell'occupazione ecco queste proteste civili vanno protette vanno tutelate e gli attivisti della società civile palestinesi vanno protetti dagli arresti e dalle violenze c'è molto che si può fare e sicuramente questo prevede anche il rafforzamento delle reti pacifiste e delle reti anti-occupazione sul fronte israeliano che sono sempre più devoli e sempre più inascoltate quindi ci vorrebbe un lavoro di rafforzamento delle due componenti che nei due paesi hanno una visione strategica per la costruzione di processi di pace e di coesistenza che poi ci consentano di portarli insieme quindi tramite anche qui un processo di peace building a passi e che consenta a loro poi di generare le soluzioni per la coesistenza la campagna di boicottaggio disinvestimento e sanzioni è stata adottata e lanciata con un mossaggio unanime di tutte le reti di associazionismo di ONG e i sindacati palestinesi quindi da parte della società civile palestinese c'è stata unanimità sul lancio della campagna di boicottaggio e questa campagna è stata poi adottata unitariamente da tutte le chiese cristiane di Palestina tant'è che anche in Italia associazione come Pax Christi hanno sottoscritto la chiamata al boicottaggio la chiamata che viene dai palestinesi è a un boicottaggio generale di tutti i prodotti dell'economia israeliana e delle istituzioni israeliane chiarendo appunto che l'obiettivo è quello di arrivare alla tutela dei diritti umani dei palestinesi è una cosiddetta rights based campaign quindi non propone una soluzione del conflitto chiede solo il rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e delle convenzioni delle Nazioni Unite è una campagna tra l'altro che è stata sottoscritta anche da partner israeliani di società civile che dicono loro stessi noi abbiamo bisogno che la comunità internazionale ci protegga da governi che non hanno mai lavorato per rendere possibile una soluzione di due stati per due popoli che hanno reso ormai impossibile immaginare la costituzione di uno stato palestinese sostenibile per cui ecco questa secondo noi è comunque una campagna che ha profonda dignità perché viene ed è la richiesta del popolo oppresso in questo momento che immagina comunque la collaborazione con tutti coloro che in israele e nella comunità internazionale condannano l'occupazione che appunto sta alla radice del conflitto grazie grazie a tutti